a maggio nel sottobosco possiamo trovare fiorita questa pianta meravigliosa che è una stregona dei boschi stachis silvatica famiglia delle lamiace volevo proprio farvi vedere questa infiorescenza guardate tutti i fiori che sono raccolti all'apice del fusto fusto che è ramificato soprattutto nella parte in alto il fusto e pubescente la sezione quadrangolare ma guardiamo questi fiori perché hanno un colore per me che meraviglioso veramente i fiori sono raccolti attorno a un verticillo qua abbiamo la fortuna di vedere anche il calice calice che pubescente guardate a cinque punte e questo è il fiore meraviglioso tipico delle lamiace che in questo caso poi a questo colore particolarmente bello le foglie sul fusto sono brevemente picciolate e hanno la tipica forma che vi ho già descritto un po a cuore le foglie sono pubescenti parte posteriore e parte anteriore eccola qua la nostra stachis silvatica stregona dei boschi fiorita grazie a tutti